Grazie perché siamo un po' matti a essere il martedì mattina in montagna nel Bolognese ma con un bel freschetto, però ragazzi c'è un microfono della CGL, è in sciopero, ce la facciamo, scherzo, detto CGL perché prima a Ozzano ho avuto una grande soddisfazione perché c'era una signora che mi ha detto io sono delegata di fabbrica CGL ma domenica voto Lega perché ormai il PD è il partito dei banchieri e dei milionari, non è più il partito degli operai, dei contadini e delle fabbriche, quindi vale doppio perché me l'ha fatto vedere la tessera in tasca della CGL e dire sono con voi, ma ne sto incontrando tanti che vengono da famiglie contadine, famiglie operai e famiglie di montagna, ieri pescatori a Comacchio, ieri sono andato alla cooperativa pescatori e la metà di quella gente lì mi ha detto noi andiamo per mare da una vita e mai nella vita avrei pensato di votare Lega e di non votare a sinistra, ma ormai quando parlo di pesca, di agricoltura, di fatica, di lavoro e di montagna a sinistra mi guardano con due occhi stralunati e mi danno come risposta la legge Fornero, il lavoro, il lavoro, il lavoro, rimettiamo al centro il lavoro e soprattutto il diritto al lavoro di chi vive in montagna che non può rimanere ostaggio di frane, di dissesti e dove faccio l'esempio delle regioni dove governiamo, la regione Lombardia, noi abbiamo istituito un assessorato alla montagna che è delegato a una persona che vive, è nato e lavora in montagna perché di montagna in regione Emilia-Rumagna purtroppo si occupa sempre qualche radical chic da salotto che sta in centro in città e una montagna non l'ha mai vista, un torrente non l'ha mai visto, un bosco non l'ha mai visto e va in giro a passeggio con la nutria e col cinghiale e non si rende conto di quali sono i problemi in montagna poi hanno chiuso punti nascita anche se Bonacini in questa settimana ha scoperto che ha sbagliato tutto, hanno chiuso i tre punti nascita in montagna, in provincia di Parma, in provincia di Reggio, in provincia di Modena, proteste delle mamme, delle famiglie, dei medici, dei sindaci, non li hanno ascoltati per anni e adesso settimana questa Bonacini cosa dice? riapro i punti nascita e poi ha scoperto gli autobus gratis, le scuole gratis, gli asili gratis, magari gli schipas gratis, la neve gratis, ragazzi quello di domenica è un voto molto concreto, molto serio per la gente che ha voglia di fare con meno burocrazia, con più infrastrutture, qua ci sono infrastrutture, io leggevo di cui si parla da 30 anni il passante di Bologna, la Tireno Brennero, la Cispadana, da 30 anni se ne parla e quindi non vedo l'ora di essere messi alla prova dei fatti perché dove governiamo la differenza si vede, gli ospedali invece di chiuderli li apriamo, ci sarà domani con Lucia Borgonzoni che sta girando come una matta Luca Zaia, domani andrà a incontrare le aziende agricole in Romagna e dopo domani verrà a incontrare le aziende agricole in Emilia per far capire che noi vogliamo solo essere messi alla prova dei fatti, del lavoro, di chiacchiere ne abbiamo avute abbastanza, io sto trovando in Emilia Romagna gente che ha voglia di lavorare in base al merito, non in base alla tessera di partito, in base al merito, in base alle capacità, in base alla buona volontà. E poi devo dire che oggi faccio i miei primi incontri pubblici nelle piazze da indagato, da processato e io ho detto tagliare la testa al toro perché altrimenti andiamo avanti un altro anno col PD, ma sono i peggiori, quelli che lanciano il sasso e poi ritirano la mano. Mi vogliono venire in galera ma non hanno il coraggio di andarlo a votare in aula e allora sono io che chiedo di andare a processo e allora sono io che voglio andare in quel tribunale a nome vostro perché in Italia si arriva se si ha il permesso di arrivare, in Italia arrivano le persone per bene perché i confini sono sacri, perché i nostri nonni hanno dato la vita per difendere la nostra sicurezza e il nostro onore e i nostri confini. E guardate la differenza proprio nella giornata di ieri, Salvini ha processo e ci vado a testa alta se mi ci mandano. E intanto a Bologna hanno arrestato un avvocato, questo avvocato lo Scerbo, che era candidato sindaco del centrosinistra in provincia di Bologna, che sulla sua pagina Facebook c'è un bel cartello che ha scritto io sto con Bonacini, oggi sta in galera, non sta con Bonacini, però starà con Bonacini ma non so se riesce a votare domenica perché ha dei problemi oggi, ma perché l'hanno arrestato secondo l'accusa? Perché falsificava i documenti per dare i permessi di soggiorno agli immigrati a Bologna e gli hanno trovato in casa 200 mila euro in contanti. Non so se voi in casa sotto il cuscino avete 200 mila euro in contanti, avete capito perché qualcuno a sinistra vuole i porti aperti per far quattrini, non perché sono buoni, generosi, cristiani, solidali, accoglienti, per far quattrini. Ovviamente Bonacini ha detto ma io non lo conosco, per carità, sarà parente mio, è colpa di Salvini, sicuramente processeranno me al posto suo. Però per dire ai ragazzi che è bello, noi stiamo girando, ormai siamo girando, io sono, fra me e Lucia siamo arrivati a, abbiamo fatto i calcoli ieri, 250 piazze tra Emilia e Romagna perché la politica secondo me è ascolto, è incontro, è passione. Stamattina Lucia ha parlato al confronto con Bonacini e mi ha girato perché poi quando vai in mezzo alla gente ovviamente le persone ti portano storie di vita, storie di lavoro, storie di problemi. C'è questa signora di Modena a cui il 28 novembre, pensate che ci ha dovuto mandare la cartella clinica, hanno trovato 5 carcinomi, no uno, 5, 28 novembre, siamo al 21 gennaio, secondo voi l'hanno operata? No, no, per carità. Però non stiamo parlando di un raffreddore o di un'influenza e poi Bonacini dice che va tutto bene, tutto perfetto. Io sono stufo di trovare imprenditori che aspettano da anni che la regione gli dia il permesso per sistemare la loro azienda. Ho trovato a Mirandola nel Modenese un allevatore che aspetta da 8 anni il permesso di sistemare la stalla, 8 anni. Ma cosa stanno a fare assessori e dirigenti in regione Emilia-Romagna se ci mettono anni a dare risposte alle famiglie, alle imprese, ai cittadini. Quindi dateci una mano perché il 26 gennaio sarà veramente una data che rimane scritta nei libri di storia del nostro Paese. E io vi dico grazie per le emozioni che ci state dando, perché ci state dando una forza, un'energia, un coraggio. Emilia è terra di lavoro, di fatica, di valori, di valori. Ovviamente noi ci occuperemo di lavoro. Tenete presente che il voto di domenica e anche, e i giornalisti lo scrivono, ma è un voto nazionale. È chiaro che è anche un voto nazionale perché noi parliamo di lavoro e c'è un PD che a Roma sta portando avanti l'esatto contrario di quello che abbiamo fatto noi sulle pensioni. E le pensioni sono collegate al lavoro. Noi ci abbiamo messo un anno a smontare la legge Fornero per restituire la vita a milioni di italiani con quota 100. Questi stanno lavorando per smontare quota 100 e tornare alla legge Fornero. Li fermiamo o no? Cioè ma vi rendete conto la follia? Poi si lamentano che i giovani non trovano lavoro, ma è chiaro che se tu tieni fino a 70 anni uno sul lavoro, quando è che uno a 20 anni comincia a lavorare? Quindi è doppiamente ingiusto. Per il sessantenne e per il ventenne. Quindi, ragazzi, è chiaro che un voto... Ah, poi ci sono le sardine. E però... E però in montagna evidentemente non riescono a risalire perché sono più comune... No, ma mi fanno impazzire perché nel loro programma la loro priorità politica è cancellare i decreti sicurezza. Voglio dire, con tutti i problemi che ci sono in Italia, cancellare i decreti sicurezza. Io preferisco il pesce crudo, anch'io. No, ma vi rendete conto? Cancellare i decreti sicurezza. Poi danno soldi ai sindaci, alle forze dell'ordine, lotta alla mafia, controllo dei confini e invece a sinistra Sardini, mica Sardini, vogliono cancellare i decreti di sicurezza e poi in questi giorni uno si legge giornali e ha capito qual è il vero obiettivo della sinistra. Siccome hanno capito che perdono le elezioni sia in Calabria che in Emilia-Romagna, hanno puntato su un'altra vittoria, Sanremo. Hanno capito che qua a Bologna, a Castiglione non tira una buona aria, domani torno in Calabria a Vibo e a Catanzaro e lì perdono con 20 punti di distacco e quindi stanno concentrando tutte le loro energie su Sanremo. E stanno uscendo degli artisti, una volta a Sanremo erano Vasco, Modugno, Zuccheri, Dalla, Morandi, adesso arriva questo Junior Calli, non sapevo chi cazzo fosse, lo scopero, anche io lo sapevo, non so. Trattasi di rapper romano di 28 anni che nei suoi testi parla di stupro, troie, pompini, poi non basta e poi fanno la testa sulla violenza contro le donne giustamente le femministe di sinistra e danno il microfono in mano a un deficiente del genere, ma non solo perché nelle sue chicche opere d'arte mi hanno girato poi i pezzetti perché io, confesso la mia ignoranza, preferisco appunto Dalla, Vasco e di Andrea, sto tizio qua e quindi non lo conoscevo, però c'è un passaggio di altissimo spessore dove dice fanculo lo Stato, fanculo l'Italia e fanculo la polizia per metterli dentro tutti, c'è un'altra perla in cui dice che ammazziamo i carabinieri e ci scopriamo Giussi Ferreri. Ora, ovviamente a me spiace per Giussi Ferreri che è finito nelle canzoni di questo qua, però uno che si mette in bocca, ammazziamo i carabinieri, deve andare in galera, non a Sanremo per quello che mi riguarda, deve andare a cantare alla dozza, non su Rai 1 e spero che a Rai 1 qualcuno tiri fuori un po' di intelletto, anche perché nel mondo di oggi ovviamente i ragazzini di 12-13 anni se dicono ah va questo qua va a Sanremo, poi vanno a cercare su Youtube i testi e ritengono normale che uno inneggi alla violenza contro le donne ad ammazzare polizia e carabinieri, vi rendete conto della follia e voi siamo noi quelli brutti, cattivi e violenti, l'ho detto prima in piazza Ozzano dell'Emilia dove c'era tanta gente per bene e c'era qualcuno che urlava e faceva gestacci, gli unici squadristi e fascisti che sono rimasti in giro per l'Emilia, sono rossi, gli unici fascisti che sono rimasti quelli rossi, che tolgono il diritto di parola a chi non la pensa come loro, quindi portiamo un po' di lavoro, un po' di futuro, un po' di democrazia e poi non vedo l'ora di tornare a Castiglione per fare una bella festa e avremo 5 anni di lavoro libero che ci aspettano. Viva la montagna, grazie a voi per essere qua, grazie ai nostri candidati che andranno in regione a battagliare e grazie per essere qua perché avete preso permesso dal lavoro e dal negozio e per me la vostra presenza questa mattina vale doppio. Andiamo a vincere, andiamo a vincere. Grazie a voi, grazie a voi. Qualcuno vuole fare una foto? Aspettate perché tra poco la fate che da là arrivano Bonaccini, Renzi e Junior Kelly. Da là, scendono dal campanile. Da che parte si entra? Si entra dalla vostra destra ovviamente.